In attesa dei play-off di promozione per l'anno laterina, beffato al fotoflinishing, campionato dall'antella, il rischio è che il cammino per il conseguimento dell'eccellenza sia comunque particolarmente lungo e difficile. La matematica non è infatti un'opinione. Dalla serie di retrocederanno sicuramente quattro toscane, in virtù delle posizioni finali di Poggi, Bonzi e Grosseto e degli spareggi che coinvolgono, in un girone Colligiana e San Giovannese, nell'altro Montemurlo e Ghivizzano, con l'incognita Via Reggio impegnato in trasferta sul campo della Fezzanese, che potrebbe far salire a cinque le rappresentanti del Gran Ducato, relegate in eccellenza. Attendendo gli spareggi nazionali per la medesima categoria, quindi il rischio è che i posti per le vincenti play-off di promozione siano pochissimi. Potrebbe essere solo una salire da tutte e tre i gironi, a parte ovviamente le vincenti del campionato già sicure. È vero che ci sono situazioni di venire, Grosseto in primis, che potrebbero portare a cancellazione e fusioni, ma queste saranno note solo dopo la conclusione della lunga tornata di spareggi che partono domenica dall'impegno interno con il Cortona e passano dall'eventuale finale del girone con la vincente di Aldax Rufine d'Asta, prima di un ulteriore triangolare che al momento sembra dover premiare solo la prima, a meno dei risultati importanti delle due vincenti dei play-off di eccellenza in giro per lo stivale. Dopo una stagione però corredata da un primato durato oltre 15 settimane, l'Arno Laterina ha il dovere di tentare la vittoria finale come migliore seconda assoluta.